In casa Cesena sono tornati due giovani di belle speranze. Dall'Inter è arrivato, dopo l'esperienza dello scorso anno, Isaac Donkor a titolo definitivo ed invece Davide Mordini, reduce dall'annata trascorsa in Serie D alla Re Canatese. Sentiamoli allora. Io qua sono stato bene, come ho detto a tutti quanti, anche ai miei compagni, quindi ritornare qua l'ho accolto subito, volevo ritornare qua, quindi sono molto contento. È importante perché sia a Bari sia la scorsa stagione mi ha fatto crescere molto, quindi sono contento di ritrovarlo ancora e sicuramente cerco di farmi crescere sempre di più. Siamo un gruppo fantastico e sono molto contento, secondo me potremo crescere tantissimo durante la stagione e possiamo fare molto bene perché avere tanti giovani che hanno fame, perché vorremmo andare tutti quanti in una categoria molto più alta, quindi faremo molto bene secondo me quest'anno. Tornare dopo due anni in prestito e far vedere i miglioramenti penso che è una delle cose più belle, perché far vedere il lavoro svolto in questi anni e i frutti che dà è la cosa più bella. Conviene fare 30 presenze in Serie D e fare un anno da protagonista, quindi far bene, farsi vedere, che fare un anno in Serie C magari dove non si ha la possibilità di giocare, comunque si gioca poco, la crescita secondo me è minore. Il Consiglio federale svoltosi ieri a Roma ha fatto definitiva chiarezza su quello che sarà il format della Serie C nella prossima stagione. Non ha 60 squadre come speravano le tante società che tifavano per i ripescaggi dalla D, ma ha 56, visto che tra la Triestina ed il Rende solo i giuliani sono stati riammessi in Serie C a causa di una fideiuzione ritenuta non idonea per quanto riguarda i calabresi. Una decisione che ha messo sostanzialmente fuori causa il Forlì, così come gli stessi Lumezzane, Vibonese e Potenza. Ravenna e Sant'Arcangelo faranno invece parte del campionato di Serie C e prenderanno posto nel Gironebi assieme a Modena e Reggiana. Occupiamoci però adesso anche di baseball. La penultima giornata della seconda fase di ritorno del campionato IBL è stata inaugurata dal successo ottenuto da San Marino su Novara e dal pesante KO casalingo di Rimini con Nettuno. Oggi toccherà anche alla Fortitudo Bologna ospitare il Padule. I due match avranno inizio alle 15.30 e alle 21. Vediamo. Penultimo turno di regular season per la Unipolsi Fortitudo Assicurazioni che, dopo il successo del fine settimana scorso nell'insidiosa trasferta di Nettuno, torna a giocare in casa. Con alcune certezze, la prima è la qualificazione matematica ai play-off, già conquistata con due giornate d'anticipo, mantenendosi in corsa per il primo posto da decidersi nello scontro dell'ultima giornata con San Marino, attualmente con 23 vittorie e 7 sconfitte, a due lunghezze di vantaggio sui bolognesi che hanno all'attivo 21 successi e 9 sconfitte. La seconda è che i bianco-blu non avranno più Rudy Owens che col Nettuno ha disputato la sua ultima gara prima di tornare negli Stati Uniti dove lo attendono impegni personali. 13 gare di campionato disputate dal lanciatore Mancino americano, sempre schierato come partente, collezionando 7 vittorie e 3 sconfitte a cui si aggiungono i due match di Coppa Campioni. La società, che era al corrente della situazione da alcune settimane, ha già trovato il sostituto che andrà a far coppia con Rivero nelle fasi conclusive della stagione. Si tratta di Ger Tyler Lansford, trentenne californiano, lanciatore destro che può indifferentemente ricoprire il ruolo di partente come quello di rilievo e closer. Viene da un paio di stagioni di ottimo livello, disputate nel competitivo campionato professionale di Taiwan, vincendo per due volte il titolo con due diversi team. Nel 2015, nelle fila dell'amigo Monkeys, dove è stato il leader nelle vittorie con un ranking di 16 vinte e 7 perse, mentre nel 2016 è passato con Eda Rainos, che ha vinto le Taiwan Series. Niente da fare per Margherita Magnani. La Cesenate si è resa protagonista di un'ottima prestazione ai mondiali di atletica in corso a Londra, senza però riuscire a strappare la qualificazione per la semifinale iridata. La Cesenate ha chiuso con il dodicesimo tempo la sua prova, fermando il cronometro sul 4, 0, 9 e 15, ventinovesimo crono generale. Non ho nulla da rimproverarmi perché ho dato veramente tutto, in particolare nell'ultimo giro, dove ho spinto al massimo. Visto i tempi che hanno fatto le mie concorrenti, avrei dovuto correre un secondo più forte del mio personale, ma le gambe non hanno risposto nel migliore dei modi. Ora mi dedicherò a legare sulle lunghe distanze che ritengo più adatte alle mie caratteristiche. Queste le parole della Porta Colori delle Fiamme Gialle. Ma per quanto riguarda invece l'Ippica, sarà il Gran Premio Città di Cesena il piatto forte della serata all'Ippodromo del Savio, come sempre se lo contenderanno i cavalli di quattro anni per un appuntamento che mai, come in questa circostanza, vivrà sul filo dell'incertezza. Vediamo. Eccoci ai grandi eventi di agosto. Questa sera l'Ippodromo del Savio di Cesena comincia la serie con il Gran Premio Città di Cesena, tradizionale appuntamento riservato agli indigi dei quattro anni che giungono in riviera dopo aver disputato un considerevole numero di prove classiche, girovagando in lungo e in largo nella penisola e soprattutto dopo aver attraversato un lasso temporale che varia dagli esordi fiorentini di inizio febbraio e spaziato senza soluzione di continuità sino al fondamentale Triossi di fine giugno. La disalmina dell'edizione 2017 parte con United Rock, precoce portacolori della famiglia Rock, tornata a livelli d'eccellenza dopo una lunga crisi agonistica proprio a Savio, quando spaziò in 1-12-3 gli ordini di Santo Mollo rendendo memorabile quel sabato di inizio estate per la franchigia lombarda che vide primeggiare Tamure anche nel Riccardo Grassi. Da tenere in considerazione poi il nuovo corso agonistico di Uno Italia ed il passaggio al training del professionale Lorenzo Baldi, ritorno in prima classe di Uragano 3B, Utopia Luis e Ulisse Mar, portacolori del ferrarese Thomas Manfredini. Ieri sera il premio Balester Balestri ha visto la vittoria sorpresa di Ned Edkiu guidato magistralmente da Carlo Udorovic. Secondo è terminato Love Inside, terzo puttindaghi mentre ha deluso il favorito Rum e Coca Day. La serata è anche vissuta con la rassegna musicale a culo di Tere Romagna ed ha visto protagonisti Lisa e Roby. Passiamo adesso a vedere anche le notizie che troviamo sui quotidiani in Edicola, cominciando con il Corriere di Romagna che riferisce di un autentico venerdì dei giudizi. FGC, Coni e Governo firmano il protocollo, il rilancio della gestione tra partecipazione e semplificazione. La tessera del tifoso non è più obbligatoria. Per seguire la squadra del cuore in trasferta e in curva tornano a rullare i tamburi. Forlì, niente ripescaggio. Serie C a 56 squadre. Ravenna e Sant'Arcangelo sono state inserite nel Gironi e B con altri 16 club. La domanda adesso è se ci sarà una sola retrocessione. Come detto questo per quanto riguarda il Corriere, ma sul QS Sport per il resto del Cardino si parla anche dei sorteggi che interessano le squadre italiane in vista degli impegni europei. Macedonia e Amaro. Il sorteggio di Europa League sorride al Milan che pesca lo sconosciuto Shkendia. Team Macedone. Sfortunato il Napoli che nel preliminare di Champions invece dovrà affrontare il Nizza di Balotelli. Ma passiamo adesso a vedere anche l'opinione di Luciano Poggi. Poco, pochissimo, alla prima partita ufficiale del Cesena. Come ci arrivano i bianconeri? Beh, ci arrivano con una formazione quasi al completo. Poi dipenderà ovviamente da Camplone. Decidere se giocare e partire con tutti quelli che per il momento sono da considerare i titolari o che lui stesso considera i titolari, magari senza che noi lo sappiamo. domani sera contro la San Benedettese il Cesena ha un banco di prova non difficilissimo ma comunque importante perché, come detto, è la prima gara ufficiale dopo le amichevoli dell'estate e quelle contano poco. Conta questa partita? Beh, conta sicuramente perché passare il turno in Coppa Italia non è cosa di poco conto e poi conta anche perché il Cesena, nel caso in cui passasse il turno, andrebbe a giocare contro il Genoa a Marassi e l'incasso potrebbe essere importante e soprattutto la partita potrebbe non essere così difficile come la differenza di categoria potrebbe far pensare. Ma torniamo all'organico. Mancano sicuramente un difensore e una punta. Di quelli o a quelli la caccia verrà aperta sicuramente dopo Ferragosto. E con quest'ultimo contributo si chiude anche questa edizione di TR24 Sport. Vi ringrazio per essere stati qui con noi. Arrivederci.